Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti qua. Sono perso per avanti due a Patero, ricordo io, eh. Patero! 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 Bene, bene, anche lì dopo Anfi con noi non so se la dovete vincere. Beh, allora, noi siamo pronti, eh? Noi ci dobbiamo vincere lì. Sì, venite un po' di avanti. Allora, facciamo, facciamo, facciamo la tecnica. Iniziamo a chiamare con loro quelli che sono i miei oponenti. Michele! E poi facciamo, 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 facciamo. Cambio, ho la micro! Ma Michele!